Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale Oggi noi dovremmo impacchettare il regalo di Ale in ritardo per il suo compleanno Chi non l'abbia visto Si ecco la mamma per la connessione Quindi ora sta facendo live Quindi qui non ha visto il monopattino vado subito al video che avevo già fatto Oh no non devo dire cosa c'è scritto Speriamo che non piaccia il regalo Quindi lo scotch qua sopra E' rosso il suo colore preferito Non lo piacerà Quindi ovviamente lo piacerà Perché è rosso ovviamente il suo colore preferito come farà non piacergli Vedo che dovrò fare un altro Si dobbiamo essere velocissimi Kasi mamaya pawino si Alessandro Malapit nang umawa si Alessandro Perché è la scuola materna di l'infanzo Quindi lei sarà già felice dalla mattina Quindi è che ora si chi non ha visto il ragione Questa è possibile che c'è credito che non puro Luck È punto di lui Perché è il ragione sull'e Ma para chi non puro Il qu'è il ragione sull'e La ragione sull'e La ragione sull'e Il qu'è il ragione sull'e O il ragione sull'e Quanto che faremo, e lo vedremo. Lo vedremo dopo. Ok, medyo malato siya. E un po' troppo grande, dirai. E un po' troppo grande. Quindi, non si. Quindi, non vi nato. Pena già detto, abbiamo fatto lo spoiler. Anche se non lo faccio. Pagmigliano, paga la tua. C'è, Ale non adora camminare per troppo tempo. Quindi, lui, beh... Vuole farci fare qualcosa. Quindi, finiamo prima. Ok, abbiamo quasi finito! Ragazzi, abbiamo finito di impacchettare proprio tutto! Quindi, ora dovremo scrivere dopo. E dopo vedremo la reazione di Ale. Ciao!